Ragazzi, ma quanto cazzo era scritto che dopo una vittoria per 4-0 come quella contro il Napoli a San Paolo, la partita successiva in Milan contro l'Empoli avrebbe fatto cagare? Infatti così è stato, non riusciamo mai a dare continuità di risultati quest'anno. È una roba incredibile, cioè io voglio sapere come cazzo fai da passare da un 4-0 come quello contro il Napoli a questa partita oscena e non mi voglio attaccare neanche al caccio di rigore di questa sera che poi, aperta e chiusa parentesi, per me era caccio di rigore perché comunque tocco di mano, secondo me c'è. Vediamo dopo nelle moviole cosa si confermeranno o meno che ci poteva essere questo benedettissimo caccio di rigore. Però al di là di rigore, gente come Rebic, come Origi soprattutto, non può più giocare nel Milan. Non può più giocare nel Milan. Rebic è palese, è palestramente evidente che non c'ha voglia di giocare più nel Milan. Origi è un pacco, è un pallo della luce piantato lì in mezzo all'aria di rigore. È un pallo della luce, è un pacco. E sapete qual è la cosa divertente, ragazzi? Origi all'anno si pappa 4 milioni di euro all'anno. Giustamente poi massare i Mardini quando devono prendere un giocatore buono, stanno lì a litigare per il mezzo milione in più o in meno da dare a un potenziale giocatore del Milan. Però poi diamo 4 milioni di euro all'anno a questo Origi di merda, pacco della luce, pallo della luce, pacco. È un pacco, ragazzi. Origi è un pacco. 4 milioni di euro all'anno si pippa. Sto infame per non fare un cazzo nel Milan. Maledizione a te e a chi ti ha preso Origi. Io non me la prendo con Origi direttamente, io me la prendo con Mardini e Massara che hanno preso questo palo piantato della luce e gli danno 4 milioni di euro all'anno. Una roba veramente incredibile fuori di testa. Poi Pioli che mi fa tutto sto cazzo di Tull Noved. Un altro po' mancava che metteva in campo pure il magazziniere di Milanello ed eravamo a posto. Però poi De Ketelèv in panchina dal primo minuto per scelta tattica per far giocare quel pacco di Origi. E gente come Adli e Vranks con Pioli, fino a quanto ci sarà Pioli, non vedranno mai il campo di San Siro. È una roba veramente allucinante. Pioli che fa Tull Noved, però Vranks e Adli me li lascia perennemente in panchina. Tiav che ha avuto il culo di giocare solo perché eravamo senza difensori. Così l'hanno scorso, così come l'hanno scorso quando ha giocato Kalulu che ha avuto il culo di giocare perché eravamo messi male in difesa. Cioè Pioli per far giocare un cristiano li devono crepare tutti i giocatori. Cioè ma che ti hanno fatto? di male Adli e Vranks che non li consideri neanche. Cioè ma è possibile? È possibile Pioli che sia così talmente ottuso da schierare un giocatore in campo solo quando vede che in panchina stanno crepando tutti i giocatori. Ma è possibile? Che poi fai Tull Noved fai Tull Noved e mi lasci in panchina perché te le ha mi fai giocare da primo minuto Origi. Poi ci lamentiamo De Keteled così De Keteled Coli grazie a cazzo questo gioca sempre 15 minuti di partita alla volta cosa pretendete? I miracoli De Keteled in panchina e gioca Mister Paco Palo di Luce Origi che si pappa 4 milioni all'anno porca di quella porca santissima cioè veramente è una roba allucinante ragazzi una roba allucinante io lo sapevo stasera che Milan e non approfittava del pareggio dell'Inter cioè stiamo facendo la gara di chi non vuole andare in Champions League perde Milan perde l'Inter pareggia il Milan pareggia l'Inter vince l'Inter vince il Milan qua si fa la gara non per andare in Champions League per chi non ci vuole andare in Champions League che è diverso se no altrimenti una squadra normale stasera vede l'Inter che pareggia contro la Salernitana una squadra sana di mente una squadra concentrata dice ok l'Inter ha presso punti noi ne approfittiamo per allungare sull'Inter in classifica una squadra normale penserebbe questo invece no noi pensiamo abbiamo vinto contro il Napoli dominando la settimana scorsa ora per restare coerenti dobbiamo fare lo scivolone in casa pareggiare 0-0 contro l'Empoli perché se no non ci chiamiamo Milan e io lo sapevo lo sapevo prima della partita infatti dicevo ad alcuni amici milanisti vuoi vedere che questi hanno fatto la partita della vita contro il Napoli e ora si fermano in casa contro l'Empoli questa sera esattamente successo così che poi sale Meckes sale Meckes di merda che non sei altro quando fai il fenomeno contro il Napoli a San Paolo quando fai vedere quel fottutissimo scudetto e osi anche dire qualcuno non si ricorda che siamo i campioni d'Italia mio caro sale Meckes io voglio io voglio dirti che noi tifosi milanisti ce lo ricordiamo ogni secondo della giornata che noi siamo i campioni d'Italia quelli che non si ricordano siete voi che scendete in campo e fate queste figure di merda noi tifosi milanisti ce lo ricordiamo bene che siamo i campioni d'Italia fino a maggio come dici tu sale Meckes quello che non se lo ricordano siete voi maledetti undici merda e mercenari che scendete in campo non per l'amore della maglia ma per l'amore dei sordi voi non vi ricordate di essere i campioni d'Italia noi tifosi ce lo ricordiamo costantemente tutti i santi giorni e questo ricordatelo sempre sale Meckes prima di sparare le puttanate qualcuno si dimentica che siamo i campioni d'Italia i primi non ricordassi di essere i campioni d'Italia siete proprio voi aperta e chiusa parentesi ragazzi il video finisce qua ditemi la vostra cosa ne pensate nei commenti di questa partita di merda dove 90 minuti un altro povero ci prendeva anche il sonno per quanto è stata noiosa questa partita ragazzi attivate la campanellina per non perdervi nessun dei miei video iscrivetevi al mio canale YouTube e noi ci vediamo in un prossimo video né bene né male comunque sempre Forza Milan nessuno belli Grazie.